sono collegate l'uno all'altro e finalmente quelle strane differenze geografiche per noi non contano e non contano più. Oggi la grande prova dell'amore dei calabresi per il lavoro che stiamo facendo in Regione è stata manifestata più e più volte oggi a Reggio dai genitori dei ragazzi che partiscono del bene dell'autismo, pomeriggio con gli amministratori di altri comuni tante delibere vere e da quello che già si vede sui territori. Grazie a Matteo per questa grande amicizia ma soprattutto per questa grande fiducia che ha dimostrato. Grazie a voi. Uno dei primi impegni che ho chiesto al Presidente Draghi è la settimana prossima di toglierci queste benedette mascherine perché con 40 gradi all'ombra è difficile lavorare, passeggiare, respirare, sorridere, quindi ultimo sforzo dai, teniamo duro per l'ultimo sforzo.